Il formaggio che presentiamo oggi è un formaggio erborinato, quindi una sorta di classico gorgonzola. È un prodotto piemontese, latte di capra in purezza, quindi caratteristiche bene o male comuni ai classici gorgonzola. Infatti ha la stessa lavorazione del gorgonzola D.O.P. Il senso di questi video è proporre assolutamente dei formaggi particolari, dei formaggi che piacciono a noi, che piacciono a me. Questo è uno dei prodotti in assoluto più gradevoli, più interessanti, totalmente alternativo. Si diceva che la lavorazione è la stessa identica del classico gorgonzola. In questo caso viene tolta la crosta e viene messo a bagno questa forma di formaggio molto molto grande, perché dai 10 ai 15 kg viene messo a bagno nello spirito. Una volta asciugato il prodotto, viene letteralmente pennellato con del miele di acacia e tutto intorno viene fatto un bagno di petali di rosa e un battuto di frutti di bosco. Ed ecco che la sensazione che già io ne godo, la sensazione che già io provo ad raccontarlo e ad averlo sotto al naso, è assolutamente unica. Questa è l'unica pecca di questo mezzo, dovreste riuscire a sentire il profumo, dovreste riuscire a sentirne gli odori e gli aromi. Assolutamente doveroso l'assaggio, per me. È un formaggio che amo servire al tavolo, amo raccontare all'ospite le caratteristiche di questo prodotto. È un prodotto eccellente, è un prodotto molto strano, molto molto particolare. Grandissimi profumi, eccellenti profumi, assolutamente strano il gusto. Qualcuno si aspetta di solito un prodotto dolce, un prodotto un po' più affabile, invece in questo caso il latte di capra dà al prodotto, dà al formaggio un gusto abbastanza austero, abbastanza particolare. L'affinamento molto molto leggero con petali di rosa, frutti di bosco e questo bagno in miele di acacia crea un prodotto assolutamente diverso. Vino dolce e gorgonzola è il classico abbinamento per contrapposizione. Non andiamo con il classico passito, bensì con un moscato, un moscato di Sardegna, quindi un vino dolce ma assolutamente non stucchevole. Il colore dorato, molto molto gradevole, sia con pasticceria secca che con appunto i formaggi. Abbinamento, tanto per isolare dai soliti abbinamenti classici, abbinamento un po' diverso è con un ottimo miele, un miele friulano ed è un miele di marasca, quindi è un qualcosa che richiama l'affinamento stesso del formaggio. Questo è fare il nostro lavoro in maniera molto molto semplice. Con questo riusciamo a stupire, con questo riusciamo a catturare, con questo riusciamo a confortare il nostro ospite. Assolutamente un formaggio molto semplice per noi, ma di grande effetto per voi.